Confini chiusi ma solidarietà senza frontiere. I 30 medici e infermieri da poco arrivati in Italia dall'Albania sono soltanto un esempio. Viaggia su un elicottero la solidarietà della Germania, che così ha trasportato in un ospedale di Essen i primi pazienti prelevati da MEDS, foculaio alsaziano all'origine del contagio in Francia. In Sassonia invece l'accoglienza di otto malati italiani, primo ad aprire le porte su una lista di lenda che si allunga di giorno in giorno. A Tolosa poi, come in altre città francesi, è forte la mobilitazione per donare il sangue, un gesto possibile anche ai tempi del coronavirus e indispensabile per salvare le vite di tanti pazienti affetti anche da altre patologie. Dal Regno Unito infine l'idea di donare pasti ai medici in prima linea nella lotta contro il virus, un'iniziativa sposata da grandi brand di ristorazione e consegne a domicilio, ma anche da volontari che raccolgono fondi online.